La comunicazione è già arrivata, 23 dipendenti di DB Italia, la società di trasporto che fa base a Domo 2 dovranno essere trasferiti in altra sede. Potrebbe essere Chiasso, o Pisa, comunque un luogo distante da dove questi lavoratori, tutti intorno ai 50 anni d'età, hanno casa e famiglia. Ne parliamo con una macchinista uno dei 12 operativi allo scalo, altri 11 lavoratori sono invece lavoratori. Grazie a tutti.